Oh, oh, come va, no! Era una spazzatura, trovavo le scarpe vecchie, le portavo a riparare al calzoloio, poi non le andavo a ritirare, però il calzoloio era contento, lavorava, trovavo degli abiti vecchi, le portavo in lavanderia, facevo stirare le camicie, insomma, facevo lavorare un sacco di gente, eh! Poi, crescendo, mi sono evoluto, ho cominciato a girare per le fiere, a ritirare i voucher per la dimostrazione di aspirapolveri, pulisci i vetri, pulisci i tappeti, tutta questa roba qua, era bello, il pomeriggio non c'avevo da fare, chiamavano uno di questi, mi erano a fare la dimostrazione, però passavo il pomeriggio, mi pulivo tutto il tappeto, mi toglie... c'ho guadagnato anche dei soldi qualche volta andavo a casa dei miei questo aspetto fa schifo è sporco glielo voglio lavare non so come organizzare dammelo a me ci penso io mi dai 30 euro e ci penso io lo portavo a casa lo mettevo nel soggiorno chiamavo a quello della dimostrazione dice vieni a pulire un del peto che poi ho avuto una casa mia sono passato agli artigiani adesso che vivo da solo io con sto lavoro spesso il pomeriggio sono a casa non c'ho da fare ma annoio la cosa che ho imparato a fare chiamo un artigiano e faccio fare un preventivo no poi arrivo questo è bello contento dovrei cambiare gli infissi posso venire domani alle 3 e mezza faccio un preventivo perfetto poi gli faccio il caffè gli facciamo due chiacchiere prendo le misure di tutte le finestre porto i cataloghi possiamo fare in pvc doppio vetro camera triplo vetro camera chiuso le vasi e mi sono fatto anche una cultura io vado al bar e faccio il figo quando gli amici miei possono fare dei lavori dove si rivolgono a me dove gli consigli sono tutto ho fatto fare più di mille preventivi l'altra volta ho avuto un colpo di culo mi sono trovato a casa del mio amico questo fa sai c'ho sto mobile del 700 me l'ha lasciato mia bisnonna dovrei farlo restaurare però non trovo un restauratore io forse ne conosco uno gli faccio una foto vediamo che mi dice vediamo se riusciamo a sistemare questa cosa gli ho fatto le foto al mobile poi ho detto più o meno quanto può valere un mobile così ho detto ma è intorno ai 6-7 mila euro la sera stessa l'ho messo su ebay a 3 mila euro l'ho venduto in due ore mi hanno fatto il bonifico poi ho detto guarda devi andare a ritirarlo là in viale Marconi 47 gli ho dato l'indirizzo ho chiamato l'amico mio ho detto guarda giovedì vengono a ritirare il mobile c'è un restauratore però però prometto che prima di due anni prima di due anni di lavoro non se ne parla io non c'ho fretta l'importante è che mi fa il lavoro ho fatto però guarda questo è un professionista uno serio io mi sono preso 2000 euro sono andato a Ibiza speriamo che muori prima dei due anni se no mi tocca litigare poi vuole i soldi indietro vabbè io la chiusura di sto pezzo non ce l'ho però mi sono messo con gli autori d'accordo che gli offre una cena e stiamo apposto così grazie wow wow Giovannoni del ketchup boy è un amico cioppo che roba ragazzi ti guardavo dietro dal monitor hai una bellissima camicia te la invidio ma questa è comoda per andare a pisciare dietro le siepi non ti vede nessuno